Alessandro Toffanini, responsabile di comunicazioni BMW, settima generazione della Serie 5, cosa ha di nuovo? La vettura è completamente nuova, arriva alla settima generazione dopo anni di successo, la Serie 5 nasce nel 72 e dal 72 a oggi sono state vendute a livello mondiale ben 7 milioni e 900 mila veicoli, la nuova Serie 5 introduce parecchie novità a partire dalla scocca, quindi una scocca completamente nuova sia a livello di materiali utilizzati che permettono di ridurre il peso fino a 100 kg sia a livello di sospensione quindi per garantire quell'aspetto di dinamica e sportività che sono tipici del marchio. Questa vettura in particolare riesce a unire due aspetti apparentemente molto contrastanti che sono l'aspetto di sportività a un aspetto di comfort degli interni che è adatto per una clientela business a cui la vettura è dedicata. Ma i contenuti forse più importanti di questa vettura non sono quelli classici delle motorizzazioni, sospensioni eccetera, ma sono contenuti che oggi chiamiamo digitali, quindi contenuti di nuove tecnologie che permettono all'auto di essere interconnessa con il mondo internet e un cloud che permette di scambiare informazioni tra vettura e vettura o vettura e cliente tramite il proprio smartphone e a sistemi montati a bordo della vettura che invece permettono delle assistenze a guidatore per supportarlo in tante condizioni di guida per garantire un maggiore comfort ma soprattutto una maggiore sicurezza in quanto questi sistemi di assistenza a guidatore sono in grado di prevenire o supportare situazioni di emergenza. Si parla di guida assistita? La guida assistita è proprio uno di questi aspetti, un aspetto che garantisce da un lato il comfort e dal lato la sportività. La vettura è in grado di azionare due dispositivi che sono in grado di tenere il controllo della carreggiata, quindi ci sono due telecamere che sono queste che vediamo sul parabrezza, unite a un radar che viene montato invece nella parte anteriore che sono in grado di monitorare costantemente la carreggiata. Agendo direttamente sul volante, la vettura è in grado di mantenere la carreggiata e effettuare anche delle curve dando supporto al guidatore che ha il compito di sempre tenere le mani sul volante e sorvegliare quello che sta accadendo. La vettura però ha anche altri sensori, ha più di 20 sensori anche laterali che gli permettono di monitorare e mappare quello che sta succedendo intorno a 360 gradi, quindi è in grado di valutare il traffico laterale e il traffico posteriore. Con tutte queste informazioni è in grado di reagire in alcune situazioni proprio per garantire la maggiore sicurezza a chi è a bordo dell'auto. Oltre a questo dispositivo c'è anche un supporto alla velocità, quindi la vettura mantiene, attaccandosi alla vettura che precede o avendo un limite massimo impostato, a mantenere una certa velocità e reagire anche sul freno e sull'acceleratore per mantenere quella velocità. Si può arrivare a casi limite in cui in condizioni di traffico la vettura è in grado di seguire il flusso di traffico arrivando a uno stop and go vero, quindi a fermare il veicolo, a farlo ripartire e gestire lo sterzo per mantenere la carreggiata. 2020 cosa succederà? Questi dispositivi atti oggi a un'assistenza al guidatore che sono destinati a migliorare la sicurezza porteranno a qualcosa un domani leggermente diverso in cui si parlerà di guida autonoma quindi di sistemi che riusciranno a, in qualche condizione, sostituire il guidatore. Parliamo di tempi un po' più in là ma neanche così tanto, parliamo del 2021 o insomma quegli anni. Si parte da quanti allestimenti e soprattutto i prezzi? La vettura è già disponibile in concessionaria a partire dai 50.800 euro con diversi allestimenti del veicolo stesso. Si parte da una versione business che è già accessoriata con sensori di parcheggio, un primo livello di assistenza al guidatore per prevenire collisioni, quindi ha un anti-collisione e un anti-investimento pedoni e già ha un navigatore e nelle versioni superiori già ha un cambio automatico di disposizione. Oltre a queste si affiancano altre tre line, quindi tre versioni, che sono la Sport, la Luxury e l'M Sport quindi con delle personalizzazioni differenti. A seconda uno voglia una vettura un po' più sportiva, allora può scegliere una Sport o addirittura una M Sport dove vengono accentuati gli aspetti di sportività con le sospensioni, con elementi di design e con sistemi di regolazione adatti proprio a quell'uso. Oppure il cliente che preferisce una vettura più confortevole, più lussuosa e rifinita in maniera differente allora sceglie una versione luxury che aggiunge contributi di quella natura. La vettura è una vettura che rappresenta il marchio BMW, è una vettura che a livello mondiale quando viene chiesto qual è la BMW più nota si risponde proprio alla Serie 5. È una vettura quindi molto importante per il gruppo, è una vettura di segmento medio-alto. In Italia del modello precedente, quindi della sesta generazione, sono state vendute circa 40.000 unità tra la versione berlina che presentiamo oggi e la versione touring. Ci aspettiamo che la versione attuale faccia altrettanto meglio.